Ok, la pancia è full, possiamo finalmente cambiare il nostro destino! Let's change our future! Ah! Senti un po' razzi di sunnisoide! Qui ci siamo noi, quindi smamma! In caso contrario, crunch! Cosa decidi? Nobile Tomonami! No! Non mi faccio intimidare da voi bulli! Abbiamo lo stesso vostro diritto di essere qui! Potete pure ritenervi più furbi di me! Ma tutti sanno che sono nell'acqua Keta! Attenti alla risaccata! Alla risacca! Volete fare a botti, stronzetti? Dai! Aha, certo! Come no? Ma c'è il maialone! C'è il maialone d'oro! Alla prima occupiamoci di loro! Perfetto! Maialazzo d'oro preso! Maialazzo d'oro preso! Beccati il veleno, stronzetto! Sei pure... debole! Uh, la bomba ha messo! Pensi di essere furbo, eh? Deficiente! Ti spacco la faccia! Beccati questo, allora! No, e dai! Preso in pieno! Avrebbe più senso che mi concentri su tutta la squadra? Probabilmente! Colpito e affondato! Stronzetti! Mi spacco a tutti la faccia! Mamma mia se ti sfondo! Non vedo l'ora di avere più gente nel nostro gruppo! Non vedo l'ora veramente di avere molta più gente! E allora, il problema di fretta è che tutte le spille che gli sto equipaggiando ultimamente puntano tutte quante verso il basso! Madonna mia! L'ho devastato! Preso! Ah, da niente! Speravo di aver fatto la combo! Beccati questo! Colpito e affondato! Abbiamo preso un sacco di danni! Perché li abbiamo presi! Ma ero preso dalla foga del combattimento! Uh! Mina vagante che immagino sia la mina che ha lanciato il tizio! Solo 11.000 yen, sono un po' pochi ma... Ehi! Meglio di nulla, no? E ora un piccolo quiz! Ah! Sta andando da solo! La velocità del suono! No! Della luce! Non sono andato tanto lontano! E invece... Ecco! Non sono anacondati! Mi rifiuto! Mi... Sess.... Oh no si è arreso Noi siamo stati più bravi abbiamo un potere migliori Beh sì Eh esatto Avrà paura di scomparire Combattimento dove? È rimasto senza valore E immagino Non l'ha ancora capito fretta Eh esatto Ci voleva tanto Oh no Eh ma va E sono scomparsi Vediamo a che classifica saremo Addirittura Eh beh Eh 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 rindrago come va Bene oggi comunque abbiamo vinto Eh ma va Gli hai fatto vedere chi comanda No ne Ti sto prendendo un po' in giro Eh esatto Non vuole che lui Tu lo sappia Non essere il prossimo Ok Ah ok Senti vediamo Tu sei nel PS Volevo dirti grazie grazie dei consigli Oh no il Moguri Ma chiediglielo no Eh esatto Sono Or At least That's what I thought Tre punti amicizia Il social network è stato aggiornato Hey there Ma guarda un po' che sorpresa Era ora che facessi vedere il tuo brutto muso Difficile trovarsi se non ti registri ufficialmente in una squadra Però sospettavo che quegli sfigati stessero andando così bene e grazie a qualcuno Allora cosa vuoi? Non sai gestire qualche variabile imprevista nelle equazioni simultanee? Qualche cosa nelle cose? Ti dirò i miei segreti se mi sveli i tuoi Ci stai? Wow Ehi piano fa niente Quindi Minamimoto ancora se la nasconde il suo potere? Non so da dove si è saltato fuori Ma questo spiega perché i miei siligati continuano a spuntarla Adesso devo solo scoprire che cosa trama Shoka? Tutto bene cara? Avevo sentito qualcosa Oh sei tu Tutto bene ci sono solo io Sai Ayano il gioco si sta facendo molto interessante Ah si? Racconta Il social network è stato aggiornato Ayano Kamachi Il tuo socio è stato aggiornato con Tanzo Kubo? E basta? Testa a testa Shutter closed Ciao Grazie a tutti.